Grazie Presidente, io colgo l'occasione per ringraziare le associazioni dei genitori che hanno denunciato l'abuso che si stava perpetrando nelle scuole Umbre, segnalando al Ministero tempestivamente quello che veniva somministrato o che si rischiava di somministrare ai loro figli. C'è un nesso, signor Sottosegretario, che il Ministero con questa decisione ha voluto garantire, del quale la ringrazio, un nesso di fiducia tra la scuola e la famiglia che non può essere tradito in nessun modo. Ricordo al Partito Democratico che oltre all'articolo 33 della Costituzione è in vigore nel nostro Paese anche l'articolo 30 della Costituzione che sancisce la priorità educativa dei genitori con riguardo alle scelte che debbono essere somministrate e al tipo di educazione che deve essere somministrata ai loro figli. Ricordo anche che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'articolo 26 sancisce che i genitori hanno diritto di priorità nelle scelte del genere di istruzione da impartire ai loro figli. E la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che è stata dal nostro Paese ratificata, stabilisce che lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. Quest'alleanza educativa tra la famiglia e la scuola è, a nostro modo di vedere, indispensabile e prioritaria. Ed episodi come quello che si stava verificando in Umbria si ripetono continuamente. E' notizia di questi giorni ciò che è accaduto a Bari con i questionari sull'educazione sessuale in cui si spiegava ai ragazzini con termini espliciti che mi vergogno di ripetere in quest'aula come utilizzare i propri organi genitali. Allora, se secondo il Partito Democratico questa è lotta al bullismo, noi siamo convinti che questo sia l'esatto contrario. Questo è bullismo sui minori! Bullismo di pochi invasati che vogliono con i nostri figli fare i loro esperimenti sociali del tutto inaccettabili perché poi i fatti sono duri da smentire. Andiamo a prenderlo il questionario che si stava somministrando ai nostri figli. Andiamo a leggere che cosa c'era scritto. Costringere una ragazzina di dieci anni a scegliere se definirsi esclusivamente eterosessuale oppure prevalentemente eterosessuale, oppure bisessuale, oppure prevalentemente omosessuale, oppure esclusivamente omosessuale, oppure sesta asessuale, è qualcosa di vomitevole. Di vomitevole! È una vergogna che qualcuno pensi di poter indottrinare i nostri figli in questo modo inaccettabile. Come del resto è una vergogna che questi minori siano costretti nella mente di qualche ricercatore ad associare questa domanda ad altre due contigue legate al proprio sentimento religioso quanto consideri importante la religione nella tua vita e al proprio orientamento politico. Ti definisci di estrema sinistra, di sinistra, di centro sinistra, di centro, di centro destra, di destra o di estrema destra. Questo, su un bambino di dieci anni, è qualcosa di scandaloso! Altro che educazione contro l'omofobia, questo è indottrinamento politico ideologico! Tutto questo lo dico con estrema chiarezza ai senatori del Partito Democratico. Finché ci saremo noi, queste porcherie non saranno date ai nostri figli. La lotta al bullismo si fa coinvolgendo le famiglie e non contro le famiglie. Si fa educando i figli al rispetto del corpo e non sessualizzandoli precocemente. Si fa usando il buonsenso e non sciocche ricerche impartite di ideologia vomitevole. Per fare tutto questo c'è uno strumento che la legge prevede e che il Ministero ha recentemente ribadito in modo autorevole. Disturbi, non disturbi, sta solo svolgendo il suo intervento senza offendere nessuno. Prego, prosegua. Per fare queste cose c'è uno strumento, dicevo che è quello del consenso informato. Il consenso informato permette alle famiglie di essere informate preventivamente dei contenuti che si vogliono somministrare ai figli e di decidere legittimamente se quei contenuti sono ritenuti o meno adeguati per i propri minori. Ma se il consenso informato è questa roba qua che è stata somministrata ai genitori umbri nel quale si legge io sottoscritto a in qualità di genitore di frequentante la classe sezione quella presente acconsento alla partecipazione di mio figlio o mia figlia all'indagine attraverso la risposta al questionario questo non informa un bel niente, questo non è un consenso informato, questa è una presa in giro è un prendere i genitori e raccontargli la storia dell'orso ma siccome i genitori non accettano più questo tipo di soprusi abbiamo sentinelle in tutta Italia, in piedi, sedute, non ci interessa qualunque tipo di sopruso sarà denunciato, segnalato, intercettato, bloccato invito la senatrice Cirinna e il presidente e tutti i presenti in quest'aula a venire alla festa della famiglia di Verona, non sarà la festa dell'odio sarà la festa della famiglia, del sorriso, del domani, della vita, del futuro, della bellezza, della meraviglia che c'è in ogni famiglia del nostro paese, in ogni famiglia che c'è al mondo in questo senso, presidente